Tadààà! Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la seconda maglia del Chelsea per la stagione 22-23 in edizione FUN, quella dedicata ai tifosi. Condividendo i suoi colori e il tema con la maglia di casa, la maglia da trasferta Nike Chelsea 2022-23 è prevalentemente bianca, con quattro cerchi verde acqua che riportano lo stesso motivo che avete visto sul colletto della maglia di casa. Ufficialmente i colori sono White, Chlorine Blue, College Navy. Una versione ricolorata dello tema del club, bianco e blu scuro, si trova sul petto, con lo swoosh Nike sul lato opposto. Il colore Blue Navy è presente anche sotto forma di una striscia sottile nella parte inferiore di ogni cerchio. La scritta Chelsea Football Club London è stampata all'interno del colletto. Nike combina la maglia da calcio Away con pantaloncini bianchi e calzini blu scuro. Ho aspettato un po' a prendere questa maglia perché non mi convinceva tanto, però devo dire che dal vivo è meglio di come me li aspettassi. E nella mia classifica questa prende 4 stelle. Il costo lo vedete qui sopra, veramente molto basso, su questo diciamo c'è poco da dire, su JJ Sport trovate sempre degli affari incredibili. Qualità è ottima, colori brillanti, le patch giuste. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto trovate un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete sul sito. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità. Se il video vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti quali altre maglie vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. A presto!